Buongiorno e bentornati a Scuola di Ubiotica. In questi ultimi giorni sto avendo dei problemi assolutamente inaspettati che non sono in grado di gestire. È come se qualche potenza oscura nell'universo complottasse contro i miei video. Spero di sbagliarmi e ringrazio chiunque. Nonostante tutto questo continui a essermi vicino. Magari, perché no, dandomi qualche suggerimento tecnico per ovviare a questi inconvenienti. Il tema di oggi, dicevo, è i quattro pilastri della saggezza buddista, pur non essendo io un esperto di buddismo naturalmente. Intanto do il benvenuto a Paolo Tubelli. Mi sembra di capire che vada tutto bene ora. È l'amico Amorosi e Monica T. Meno male. Mi fa piacere che mi sentiate bene. Anch'io mi sento bene. Paolo Tubelli, sei la prima in questa occasione in chat e quindi se avrai il piacere di farmi la domanda alla fine del video, perché è coerente col tema, ma scritta a stampatello e ripetuta ogni tanto, sarò felice di provare a rispondere. Olè, grazie a te. Allora, dicevo, non sono specificamente un buddista, non sono un esperto di buddismo, però ritengo che il buddismo, come tutte le grandi religioni e tutte le grandi correnti filosofiche dell'umanità, non solo vada conosciuto, ma dobbiamo riconoscere che sia parte integrante della nostra cultura, del nostro modo di vivere. Colgo l'occasione naturalmente per salutare Paolo Mancini, che oltre ad essere un esperto di buddismo, ad aver avuto anche un'esperienza per un po' di tempo con quelli che a suo tempo venivano chiamati gli arancioni, è stato il Reiki Master dal quale io ho preso il mio Master. Con l'occasione saluto anche Marcella Foranna, che avete avuto il piacere di conoscere, perché l'ho intervistata qui su YouTube. Do il benvenuto anche a Carmelina De Benedetto e mi sembra che tutto per ora, l'audio per ora proceda bene. Partiamo con l'aforisma con cui ho annunciato sul mio profilo di Facebook, che ero pronto per il video. Non c'è una strada per la felicità. La felicità è la strada. Questo è uno dei più famosi aforismi del Buddha, che ci fa riflettere su come spesso i problemi della nostra vita sono dovuti al fatto che confondiamo i mezzi con le soluzioni, che confondiamo i fini con i mezzi per utilizzarli. Bellissimo, riflettetelo, scrivetelo se non lo conoscevate. Non c'è una strada, non c'è una formula, non c'è un ingrediente per raggiungere la felicità. La felicità è la strada, la felicità è la formula, la felicità è l'ingrediente essenziale per vivere bene. Siamo alla scuola di obiotica, quindi per vivere bene in armonia con noi stessi e con tutte le persone e le situazioni che ci circondano, perché alla fine questa è l'essenza del buddismo. Per parlare di questo argomento non posso che citare anche Luca Siniscalco, il quale è un esperto di quella che viene chiamata la follia sacra, cioè l'utilizzare paradigmi arcaici, sistemi di ragionamento e di organizzazione del pensiero che vadano oltre il razionalismo moderno. Il positivismo dell'Ottocento non ha risolto tutti i problemi dell'umanità e soprattutto non ha impedito le due guerre mondiali. Il razionalismo, lo scientismo di oggi non mi sembra che abbia risolto il problema della pace nel mondo, non ha risolto il problema della fame nel mondo, non ha risolto nessuno dei veri grandi problemi esistenziali. Però, come si dice, non possiamo negare che per certi aspetti oggi si viva meglio di cento anni fa o di mille anni fa, anche se i problemi di fondo degli individui, oltre che dell'umanità in generale, sono gli stessi. Come si dice, niente di nuovo sotto il sole, lo dicevano già gli antichi duemila anni fa. Allora, partiamo dal libro che ha ispirato il video di oggi ed è un libretto, Buddha, i quattro pilastri della saggezza, con la traduzione di Carlo Eugen Neumann e di De Lorenzo, che è stato pubblicato in italiano nel 1992, ma che chiaramente riprende la tradizione, i discorsi del Buddha relativamente appunto ai quattro pilastri della saggezza, che risalgono a duemila e cinquecento anni fa praticamente, insomma. Ricordiamoci che all'inizio la tradizione era tramandata oralmente, solo in un secondo momento poi si è arrivati alla scrittura. E questo per esempio può spiegare come ci siano tante ripetizioni, tante cose apparentemente identiche o analoghe, però dette magari cambiando soltanto qualche parola. Per farvi conoscere meglio il contenuto, leggo come al solito la quarta di copertina. È tornato anche Max Rossi, benvenuto e proseguiamo. Allora, Buddha, i quattro pilastri della saggezza. In questi discorsi, scoperti verso la metà del secolo scorso da un gruppo di ricercatori europei all'isola di Silon, secolo scorso è il novecento, nell'ottocento scusate, è contenuto il cuore dell'autentica dottrina buddista, serbati a memoria dai fedeli discepoli di Buddha, trascritti solo in seguito e riportati pazientemente dai monaci dell'isola su foglie di palma, essi sono stati conservati per oltre due millenni nei chiostri di Silon, finché, dopo il ritrovamento, furono pubblicati a Londra nell'originale Pali, la lingua Pali. Fu Karl Eugen Neumann, indologo viennese, che per primo ne comprese apprezzò l'immenso valore, accingendosi a un'opera di traduzione che è rimasta insuperata per capacità di penetrazione e sensibilità spirituale e culturale. Rendendo accessibili in lingua europea i testi Pali, penetrando nello spirito e la forza, cogliendone i toni, egli ci ha consegnato nella sua purezza l'intima essenza del buddismo. Il De Lorenzo, poi italiano, ha rispettato la fedeltà di parole e di senso della traduzione dell'amico viennese, aprendoci le porte verso questa straordinaria concezione indiana del mondo dell'uomo. Ah, Paola Tubelli ha già pronto la domanda. Quali sono i quattro pilastri da saggezza secondo Evaldo Cavallaro? Oh, grazie Paola Tubelli, tu mi stai seducendo a poco a poco, perché mi metti addirittura alla pari del Buddha. Ma ricordiamoci, c'è un Buddha dentro ognuno di noi. Bella domanda, Paola, dice Monica T. Va bene, proveremo a rispondere dopo. Concludo la quarta di copertina dei quattro pilastri della saggezza con poche note sul Buddha. Buddha, che in sanscrito significa il risvegliato, è il titolo con cui fu designato Siddhartha Gautama, appartenente alla nobile famiglia degli Shakyat, fondatore del buddismo. Nato nel 565 a.C. circa a Kapilavastu, nell'India settentrionale, a 30 anni decise di abbandonare la moglie e il figlio per dedicarsi completamente all'ascesi, alla meditazione e alla predicazione. Morì a Kusinagara intorno al 486 a.C. Quindi due parole sul Buddha e due parole sul volume, i quattro pilastri della saggezza. E naturalmente, ora aggiungerò quattro parole anch'io, tratti naturalmente dal libro. I quattro pilastri della saggezza o del sapere? Sapere, ricordiamoci, la parola sapere ha la stessa radice di sapore. Quindi il sapore della vita è nel sapere, nella conoscenza. L'essere saggi è una cosa diversa dall'essere intelligenti. La saggezza può prescindere dall'intelligenza. La saggezza può prescindere dall'intelligenza e dalla cultura. I nostri nonni, magari analfabeti, avevano una loro saggezza, tratta dall'esperienza della vita, loro e di quei pochi altri che avevano avuto l'occasione di conoscere, che rappresentava la loro bussola esistenziale. Prendiamo un esempio per tutti. Il calendario di Frate Indovino è una miniera di saggezza esistenziale. È tutto valido? Ma non lo so. Molte cose sono divertenti, molte cose sono assolutamente utili, molte cose sono, come dire, arricchenti perché danno sapore alla nostra esistenza. Quindi quali sono i quattro pilastri del sapere della saggezza secondo il Buddha sono innanzitutto la retta cognizione, cioè dobbiamo imparare a cercare e trovare e dare il significato giusto alle informazioni, agli stimoli, alle esperienze della vita, in modo di poterci fare una idea chiara, precisa, sintetica, utile della virgolette realtà in cui siamo immersi e nella quale viviamo, che può essere distinta in realtà probabilmente esterna e realtà sicuramente interna. Un altro dei pilasti fondamentali è il modo di vivere naturalmente perché, come spiegheremo meglio dopo, ci sono dei modi di vivere che sicuramente ci faranno stare male e dei modi di vivere che sicuramente ci faranno stare bene e dei modi di vivere intermedi, spiegheremo meglio dopo, che virgolette possono costituire un cammino dallo stare sicuramente male allo stare sicuramente bene. E naturalmente dobbiamo imparare a riconoscere sia in noi stessi, sia negli altri, sia nei modi di vivere la stoltezza e la saggezza. Dobbiamo imparare a distinguere lo stolto dal savio. Ora, diciamolo francamente, gli stolti danno dei problemi e hanno dei problemi. I savi sono spesso noiosi, quindi dobbiamo imparare a condire la saggezza con il sapore del sapere, in modo che la vita sia saggia ma anche, se possibile, divertente. Non dimentichiamoci mai che il nostro amico inconscio si nutre di emozioni negative, se purtroppo gli abbiamo dato soprattutto esperienze negative, positive se lo abbiamo adeguatamente addestrato a selezionare tra emozioni positive e negative quelle sicuramente positive. Alcuni strumenti fondamentali del modo di vivere della saggezza buddista, uno dei pilasti, sono la pratica dell'ascesi e la meditazione. L'ascetismo, certo, non è facile da perseguire, soprattutto nel nostro mondo contemporaneo, e la meditazione può richiedere del tempo, anche se tutto sommato 60 secondi di meditazione fatta serenamente, non di corse, non per dovere, possono valere più di mezz'ora o un'ora di meditazione fatta per forza e contro voglia. Quali sono i principi fondamentali della saggezza? Sono il liberarsi dal male, quindi da tutte le idee negative, e dagli inutili fardelli della vita materiale, cioè imparare a distinguere l'essenziale dal superfluo della nostra vita, in modo da poter innalzare lo spirito che, ricordiamoci, per chi crede come me nella reincarnazione, è quello che ci accompagnerà sempre, mentre il corpo, oltre a essere costretto alla degradazione dell'età e del tempo, è comunque qualcosa che dovremo abbandonare. Quindi innalzare lo spirito e vivere felici, perché la felicità non è semplicemente un'opzione nella vita, la felicità dovrebbe essere il dovere nella vita, il primo comandamento. Per esempio nella cultura americana, nordamericana, l'essere felici è addirittura un diritto costituzionale. E allora vediamo un attimo a pagina 68, leggo poche righe, per poi presentarvi, sperando che abbiate carta penne e calamaio, presentarvi un nuovo piccolo esercizio. Siamo a scuola di obiotica, quindi il nostro obiettivo è imparare a vivere meglio. E perché no? Anche col nostro esempio, non con la tortura psicologica, non con la manipolazione psicologica, ma col nostro esempio, provare a far vivere meglio anche gli altri, in modo che gli altri, vedendoci sereni, serafici, come un Buddha vivente, trovino dentro loro stessi il desiderio di imitarci. Nel cristianesimo c'è l'imitazione di Cristo, oggi parliamo di buddismo, l'imitazione del Buddha. Allora a pagina 68 cito le parole del Buddha che parlava, istruiva i suoi monaci. quattro specie di modi di vivere vi sono, voi monaci. Quali quattro? Il modo di vivere che porta male presente, così male futuro. Il modo di vivere che porta bene presente, è male futuro. Il modo di vivere che porta male presente, è bene futuro. Ed il modo di vivere che porta bene presente, così come bene futuro. In queste poche righe, in queste poche parole, il Buddha ha sintetizzato tutto quello che può capitarci nella vita. C'è il modo di vivere che porta bene presente e male futuro. Vedo la nutella, mi piace, e finisco tutto di botto un intero barattolo di nutella. Bene presente perché mi fa piacere, ma male futuro, mal di pancia, dover andare 50 volte al bagno, pieno di brufoli o quello che è. Quindi un primo modo di vivere assolutamente infantile è preoccuparsi di soddisfare il piacere momentaneo, immediato, senza assolutamente pensare a quali saranno le conseguenze future. Poi c'è il modo di vivere che porta male presente e bene futuro. Beh, è ovvio, quando siamo ammalati la medicina potrebbe essere amara. Quando siamo feriti la cura chirurgica, la riduzione della ferita, della frattura, potrebbe essere molto più dolorosa forse dell'incidente, ma sicuramente questo male presente ci porterà a stare bene in futuro. Poi c'è il modo di vivere che porta bene presente così bene nel futuro. Abbiamo detto, non so se mi sono perso, porta male presente... Ah, scusate, c'è il modo di vivere che porta male presente e male futuro. Naturalmente, pensiamo per esempio a uno che decida di suicidarsi con un veleno, non riesce a morire, quindi sta male ora e starà male anche in futuro, perché ne dovrà comunque pagare le conseguenze, oppure pensiamo al drogato o altre cose, esperienze di questo genere. E poi naturalmente c'è, lo dice già il Buddha più di duemila anni fa, c'è il bene presente e il bene futuro. Cioè cercare tutte quelle esperienze che ci permettano di stare bene ora e di continuare a stare bene nel futuro. Ed ecco quindi il piccolo schemino che vi propongo di utilizzare. Ve lo faccio vedere qua tanto per dire. Immaginate, dividete un foglio in quadrati, in quattro quadranti. Quindi, bello grande il vostro foglio. Allora, sulla verticale abbiamo sopra bene e sotto male. Bene e male. E in orizzontale abbiamo presente e futuro. Quindi abbiamo quattro quadrati in cui, per esempio, il quadrato in basso a sinistra rappresenta ciò che è male presente, nel presente. Bene, scrivete, non ora, scrivetelo con comodo, lo diciamo a casa vostra e quando avete tempo, per voi stessi. Scrivete tutte le esperienze che vi portano sicuramente male nel presente. Cioè che vi fanno stare male. Scrivetene almeno da tre a sette. Non meno di tre. Non più di sette. Non meno di tre, perché se non le avete probabilmente siete già mezzi Buddha. Non più di sette, perché insomma lasciamo anche per il futuro il piacere di potersi crogiolare nelle cose che ci fanno stare male. Nel quadrante in alto a sinistra, invece, scriviamo tutte le cose che ci fanno stare bene nel presente. Scriviamo almeno tre, non più di sette. Nel quadrante in alto a sinistra, scriviamo tutto quello che potrebbe farci stare male nel futuro. E nel quadrante in alto a sinistra, scriviamo tutto quello che potrebbe farci stare bene nel futuro. Quindi, in sostanza, avremo un elenco di situazioni. Scrivetele brevemente. Abituatevi a scrivere le parole chiave. Al massimo un concetto ridurlo a due, tre parole. Non di più, non scrivete romanzi, a meno che non vi chieda specificamente di scriverli. Quindi, praticamente avete già capito che in basso abbiamo il male presente e il male futuro. E potremmo incrociare alcune esperienze che oggi classifichiamo come male presente strettamente collegate al male futuro. E sarà urgente lavorarci per cercare di eliminarle dalla nostra vita o almeno di ridurne l'impatto. Nella due quadrati superiori, invece, abbiamo tutto quello che ci fa stare bene nel presente e che potrebbe farci stare bene nel futuro. E tutto quello che ci fa stare bene nel presente, le cui conseguenze, i cui frutti potrebbero durare nel futuro, è quello su cui sono le esperienze della vita sulle quali eobioticamente dovremmo concentrarci. Anzi, potremmo addirittura giocare ad essere anche noi degli strateghi militari e dire che tutto quello che abbiamo messo nel quadrante del bene presente rappresenta l'eobiotica tattica, cioè tutto quello che ci fa vivere nel breve periodo. Mentre tutto quello che potrebbe farci vivere bene, che siamo sicuri ragionevolmente che ci farà vivere bene nel futuro, rappresenta l'eobiotica strategica. Cioè, la differenza tra tattica e strategia è la tattica si preoccupa di vincere questa battaglia, di mangiare questa pedina o questa dama o questo pezzo giocando a scacchie. La strategia invece si occupa di vincere la guerra, quindi il risultato, se Dio vuole, di lungo periodo. Quindi, ripeto, guardatelo se riuscite a vederlo, ma tanto credo che abbiate già capito tutti quanti. Bene, quali sono i piccoli ma importantissimi consigli che ancora oggi ci darebbe il Buddha, se fosse vivo in carne ed ossa, è anche rappresentato in genere opulento, cicciotto? Imparare a controllare il flusso dei pensieri. Un esercizio di autiplano si diremmo oggi. Imparare a distaccarsi dal superfluo. L'autocontrollo emotivo, di nuovo siamo nell'ambito dell'autoipnosi, del reiki, del training autogeno, è allontanarsi da tutto ciò che sia dannoso per il corpo e per lo spirito. E qui ci viene immediatamente in mente, vi ricordate le parole di Siddhartha, quando decide di andare a conoscere il mondo, è lui che rinuncia a tutti gli agi della vita di principe reale, per così dire, è so pensare, so aspettare, so digiunare. Queste sono le cose fondamentali per vivere nel mondo, rispettando la vita. Quindi controllo del flusso dei pensieri, distacco dal superfluo, autocontrollo emotivo, allontanarsi da tutto ciò che sia dannoso per il corpo e per lo spirito, che in una logica per esempio cristiana si potrebbe riassumere nel imparare a mortificare i sensi, imparare a elevare lo spirito e fuggire alle occasioni prossime del peccato. Cioè tutto quello che sappiamo che potrebbe indurci in tentazione, beh, prendiamo un'altra strada, cerchiamo di tenerlo lontano da noi. E quindi, indipendentemente dal fatto che siate ancora cristiani o cattolici, o siate diventati qualcos'altro, o siate diventati ateli, in un'importanza, la saggezza del catechismo va distillata e utilizzata per vivere bene, in armonia con noi stessi e con tutti. Infatti, cristianesimo, buddismo, ma tutte le grandi religioni alla fine hanno dei fondi comuni. E abbiamo detto tante volte che il fondo comune a cui hanno attinto tutte le religioni in tutte le culture del mondo, alla fine è la sapienza magica, la saggezza magica. Perché, prendiamo un piccolo esempio, nel cristianesimo, particolare nel cattolicesimo, fin da bambini abbiamo imparato a recitare le litanie e le giaculatorie, cioè dei modi semplici con cui ricordavamo dei concetti fondamentali. Però, certo, parlando anche da ipnotista, da vecchio ipnotista in pensione, diciamoci francamente che i rosari, le litanie, le giaculatorie, eccetera, sono anche delle induzioni ipnotiche, perché portano, accoppiate con la penumbra delle chiese, magari l'odore dell'incenso, la posizione o quello che è, portano a una modifica dello strato di coscienza, a un progressivo calo dell'attenzione cosciente e quindi automaticamente a far emergere l'inconscio. Per cui, quando il sacerdote di qualunque religione ci viene a dare il suo messaggio, trova un inconscio più ricettivo. Questa è la logica di tutti i rituali, di tutte le religioni, che impongono, insegnano, impongono, scegliete voi il termine giusto, dei rituali, degli atti devozionali e degli atti di culto. Come dire, l'inginocchiarsi, l'alzarsi, il sedersi, il farsi il segno della croce o qualsiasi altra cosa, il recitare certe cose, sono atti attraverso i quali noi entriamo nel rituale induttivo. Come dire, se fossimo in un esperimento di ipnosi per produrre ipnosi. Se fossimo invece in un rituale di tipo religioso, per produrre accettazione a critica, senza critica, del messaggio. Bene, anche il buddismo ha la sua litania, ha la sua giaculatoria famosissima, ed è il famoso Nam-myo-renge-kyo. Ora, io non lo pronuncerò in maniera giusta come andrebbe pronunciato, naturalmente, però qual è la funzione del Nam-myo-renge-kyo? Certo, ha anche un significato. Potremmo dire che recitare il Nam-myo-renge-kyo significa, in termini letterali, non conosco naturalmente il pali, però, tanto per dire il significato della formula, come d'altra parte anche le litanie nel cristianismo hanno il loro significato, le parole hanno il loro significato e la frase intera ha il suo significato. Recitare Nam-myo-renge-kyo significa rispettare la dignità e le infinite potenzialità delle nostre vite, facendo emergere la pura energia. Questa, alla fine, è la legge mistica. Ma anche Sant'Agostino che cosa diceva? Ama e poi fai pure quello che ti pare, perché tanto se impronti la tua vita sull'amore per tutte le persone, per tutte le creature, non potrai fare del male. Come dire, non c'è nient'altro. Anche Cristo dice, beh, voglio dire, amare Dio e amare il prossimo, amare il fratello tuo, vale più di tutte le leggi, di tutta la legge e i sacrifici, di tutto quanto il formalismo. Un altro dei concetti fondamentali, bellissimo e importantissimo del buddismo, è il concetto di permanenza ed impermanenza. Vi confesso che se riuscissimo tutti quanti a tenere sempre presente questo concetto, la nostra vita sarebbe decisamente migliore e più semplice. Leggo sempre, per migliaia di volte, leggo sempre con interesse e piacere, quando vado nei cimiteri, ogni tanto su qualche tomba c'è la famosa frase, quello che tu ora sei, io ero, quello che io ora sono, tu sarai. Se ci ricordassimo questo, io credo che tre quarti, forse il 99% dei problemi, delle liti, delle dispute quotidiane, verrebbe automaticamente accantonato e abbandonato. Perché purtroppo viviamo pensando che ci porteremo nell'aldilà tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo. Quello che abbiamo sicuramente non ce lo porteremo. Quello che siamo ce lo porteremo come debito karmico, cioè come fardello di debiti, per così dire, esperienziali, che dovremo ripetere come un esame che non abbiamo superato in altre vite fino a quando avremo capito l'importanza della permanenza e della impermanenza, di ciò che è veramente dura, di ciò che invece è destinato a passare. E una delle applicazioni più interessanti e divertenti e utili naturalmente del concetto di permanenza e impermanenza è il famoso gibberish. Ne avrete probabilmente già sentito parlare, anche io ve l'ho citato ogni tanto. Che cos'è il gibberish? È l'emissione di suoni privi di significato, un po' come l'antani di amici miei, per dire, insomma, perché poi ritroviamo la saggezza anche nelle situazioni più casarecce, per così dire. Il gibberish, cioè il ripetersi parole senza senso, suoni senza senso, anche magari mentre l'altro ci sta rimproverando e molto arrabbiato e così via, il fatto di farci vedere come se noi stessimo dicendo qualche cosa, ma in realtà non stiamo dicendo niente, spezza la sua attenzione, spezza il flusso delle sue azioni aggressive, sia pure verbali, magari solo verbali in quel momento, e lo induce a chiedere ma che sta succedendo? Che stai dicendo? Quindi il gibberish, il ripetersi, anche quando siamo in meditazione da soli, ma ci continuano a venire pensieri disturbanti, rompe gli schemi della verbalizzazione della mente cosciente e la porta gradualmente a tacere. Quindi, se vogliamo meditare, vogliamo rilassarci e ci vengono pensieri disturbanti, l'importante, come vi ho detto tante volte, è non offrire ai pensieri disturbanti il tè e i pasticcini, esattamente come. Se vogliamo stare tranquilli, non andiamo a rispondere al citofono, non andiamo a rispondere al telefono se qualcuno non ci abbia avvertito in precedenza che ci verrà a trovare, ma se un importuno che ci viene a trovare senza averci avvertito, noi lo facciamo entrare in casa, gli offriamo il tè e i pasticcini, quello si sentirà sempre più libero di venerci a disturbare. Lo stesso vale per i pensieri. Quindi pensiero disturbante, geberisce, paperinizzare, visto che internet ultimamente mi regala ogni tanto nei miei video la voce a paperino, bene, paperinizziamo i nostri pensieri. La mente cosciente si stuferà di pensare cose sulle quali nessuno, alle quali nessuno presta attenzione ed ecco che si metterà a tacere. Attenzione, non aggressivamente, cioè non l'abbiamo rimpoverata e costretta a non darci cattivi pensieri, semplicemente l'abbiamo distratta con altre cose. È una grande saggezza anche esistenziale con i figli, per esempio, petulanti, con gli amici petulanti e ancora un altro concetto importante è quello, partendo di buddismo, è il veganismo, cioè il rispetto delle vite di tutti i viventi, animali umani naturalmente, animali naturalmente anche, e poi certo anche vegetali. Ma ricordiamoci, non è tanto importante il fatto di non uccidere per nutrirsi, perché anche lì ci possono essere estremi che possono portare, per esempio, al fruttarianismo, però perché no? Se uno vive bene di fruttarianismo, perfetto, insomma, sicuramente non fa male a nessuno. Il rispetto della vita che cosa vuol dire? Che gli umani sono gli unici, sembrano essere gli unici viventi che non solo uccidono per nutrirsi, e questo lo fanno anche tanti altri animali, ma uccidono per il piacere di uccidere, uccidono per futili motivi, ma non solo uccidono, imprigionano, torturano, schiavizzano, cioè gli umani non rispettano la vita, né la vita degli altri umani, né la vita dei viventi, né probabilmente la vita dell'universo. Quindi il buddismo tra i suoi grandissimi meriti ha quello di averci guidato a prestare attenzione e rispetto alla vita. Un'ultima riflessione, il karma. Naturalmente il buddismo è karma, e per esempio una delle domande che ogni tanto circola sul web è karma, come si potrebbe creare un campo di meriti positivo? Eh, non è difficile. Il karma negativo può essere corretto solo attraverso acquistando dei meriti, solo attraverso l'acquisto di meriti positivi. Cioè non basta andare in ipnosi o non basta compiere dei rituali o non basta fare le elemosine, insomma, per rimanere nella cultura cristiana. Bisogna compiere delle azioni positive, virgolette, contrarie, antagoniste, riparative, indennizzatrici del male che abbiamo fatto. È ovvio che non sempre potremo riparare, indennizzare le persone o comunque i viventi che abbiamo danneggiato. Ma per esempio nelle culture primitive del pensiero magico, virgolette, cosiddetto primitivo, in genere gli antichi, quelli che noi chiamiamo selvaggi, ringraziavano gli animali che uccidevano per nutrirsi, ringraziavano le piante che distruggevano per nutrirsi, anche se in genere cercavano di non farlo quando possibile. Quindi, l'unico modo vero per creare un campo di merito positivo, devo ringraziare Massimo Tramasco, perché questa è una delle domande alle quali lui ha cercato di rispondere, come karma, come creare un campo di merito positivo, e beh, la risposta non può che essere amando senza riserve, amando senza riserve, come si amerebbero i figli e impegnandosi a fare del bene ogni volta che ne abbiamo la possibilità, per esempio nel sociale, oppure semplicemente amando onestamente un'altra persona, un uomo, una donna, senza recitare, quindi senza illudere, senza ingannare, per cui, per concludere, l'unico modo per crearsi un campo di meriti positivi per ridurre, non illudiamoci di poterlo estinguere tutto, ma se fossimo in grado di estinguere tutto il nostro karma, saremmo diventati buddhi anche noi, buddha anche noi, avremmo raggiunto l'illuminazione, saremmo ormai degli avatar semiperfetti, dei santi nella cultura, per esempio, cristiana. Ultimissima cosa, prima di rispondere a Paola Tubelli, ogni tanto qualcuno mi scrive e mi chiede, in questo caso è Daniela M., e grazie a Dottor Cavallaro, le chiedo gentilmente informazioni relativamente a esoterismo, magia o argomenti affini. mi sto appassionando a questi temi dopo 40 anni di ricerca spirituale e ho sempre abbinato a una corretta alimentazione rispettosa della natura e dell'ambiente. Grazie. Ringrazio Daniela per la domanda, ma ogni volta che mi chiederete consigli, per esempio, su libri, a parte che io ogni video cerco di presentarvi qualche libro, il mio consiglio migliore è di entrare in una libreria, andare nel reparto specializzato degli argomenti che stiamo cercando, sfogliarne, guardarli, annusarli, aprirli, leggerne qualche riga in modo da poter incontrare e a me piace dire farsi trovare dal libro più adatto a noi. Noi cercavamo un libro, ma anche quel libro stava aspettando noi. Se ci riflettete esattamente quello che io dico, sì, noi cerchiamo l'amore, ma in realtà c'è qualcuno che sta cercando noi come amore, quindi sì, se ci va facciamoci trovare. È più divertente e lo stesso vale con i libri. Aprite, sfogliate, annusate, leggete, guardate, confrontate e quello che vi piace di più è il libro. Ma, e chiudo, se non volete diventare come Cavallaro che ha raccolto più di 7000 libri e non sa più dove metterli e quindi progressivamente li perderò a causa delle intemperie e compratene non più di uno per volta e non compratene un altro fino a quando non abbiate finito il primo. Allora, Monica, eh no, scusate, Paola Tubelli. Paola Tubelli e la sua domanda. Quali sono i quattro filasti della saggezza secondo Evaldo Cavallaro? Allora, primo, rispettare le domande di Paola Tubelli. Secondo, rispettare Monica T che dice bella la domanda di Paola. Terzo, rispettare e onorare Paola Tubelli che dice grazie Monica T. e poi naturalmente altra saggezza Carmelina di Benedetto che dice Evaldo la sua saggezza illumina le nostre serate grazie per la condivisione grazie a te Carmelina. Al di là degli scherzi quali sono i quattro filasti della saggezza? Credo che veramente tutto si possa ridurre ama e fai quello che vuoi. Non è mio come ho già detto è di Sant'Agostino ma in realtà anche Cristo diceva esattamente le stesse cose ecco per chiudere mi viene in mente spero di riuscitarlo bene la scuola medica salernitana che cosa diceva mi pare che dicesse mensleta qui es et moderata dieta quindi credo che fossero queste le cose quindi avere una mente felice mensleta qui es quiete quindi riposo rilassamento et moderata dieta mangiare diciamo il giusto e il quarto il quarto pilastro potrebbe essere ammirare apprezzare godere dell'universo io io non vado a dormire se prima non sono andato a salutare il cielo le stelle la luna quello che vedo le nuvole gli uccelli i gabbiani insomma quello che è e per così dire non la mattina quando mi capita di alzarmi presto mi piace andare a salutare il sole quando posso farlo quindi riconoscere la bellezza dell'universo grazie a tutti quanti voi saluto chi vedo in chat in questo momento Paola Tubelli Monica T Carmelina De Benedetto Max Rossi e gli altri ora non li vedo buona vita a tutti grazie e mi raccomando riempite i quadranti con quello che vi sta a stare bene ora bene in futuro male ora male in futuro bene ora male in futuro male ora bene in futuro a presto e scrivetemelo cavallaro.valdo chiocciola gmail.com se lo desiderate grazie a tutti grazie a tutti